e se che gariccio certo ci stiamo andiamo questo duro lavoro e gli insetti facciamo zoom sulle insette che ti muove guarda e non è l'unico qq basta non ci vengo più in questo luogo è malsano riprendo un po' c'è Riccio entriamo nella nostra casa c'è un odore di piscina che voi non immaginate davvero eh che faccio che vede che bel pacchetto regalo vai soprattutto io hai contribuito io ho paura io ho paura aiuto basta basta proprio basta fermati ah firmati ho capito fermati aspettate no no c'è la persona dentro apro 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 ciao 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 è più bello bravo bravo ciao 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 uc uc i libri dovrei di mettere un po' posto. Sì! Carli, andiamo un attimo. Sì. Sua sorella. Dove? Lei è? Mi ha sentito? Lei è. Lei è. Lei è. Dormiti. Tieni la cintura! No, io ho paura per me! Mandi la poesia! No! 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 E' la cintura rosa! App Genau. Sono Seattle! Eиться in Mysticato... Di Ro Ro... Có... Facco co dal torso... Di Ro...